Covid e tumori. I pazienti oncologici possono vaccinarsi al centro della nuova puntata di Pronto Medicina Facile, andati in onda ieri. La trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani ha visto ospite il professor Michele De Tursi, specialista in oncologia medica al Policlinico Santissima Annunziata di Chieti e docente dell'Università d'Annunzio. Tanti gli argomenti trattati, a cominciare dalla necessità di recuperare visite, controlli e interventi chirurgici, fino al tema di strettissima attualità. I pazienti oncologici possono fare il vaccino anti-Covid come quando in redazione Gigliola Edmondo ha raccolto le tante telefonate e mail dei telespettatori per interpellare lo specialista. Sono convinto che stiamo uscendo dal tunnel, ma lo stiamo facendo grazie ai vaccini. Purtroppo siamo ancora nel vortice della tempesta, siamo in piena terza ondata e ancora le curve in salita. Però l'esempio è proprio quello di noi professionisti della sanità, dove ha visto l'incidenza e precipitata con l'aumentare della vaccinazione. Ha testimonianza diretta che dove arriva il vaccino la pandemia si riduce. Quindi la speranza è quella di poter partire se le previsioni del CTS, del Ministero sono quelle di mezzo milione di persone al giorno a partire da metà aprile. Io penso che l'ottimismo possa essere ragionevole. Un altro filone di speranza, un altro aspetto che potrebbe migliorare molto la situazione da un punto di vista terapeutico sono gli anticorpi monoclonali. Voi in oncologia l'adoperate già da qualche anno, no? Sì, però quello è già una fase avanzata perché gli anticorpi monoclonali vengono utilizzati per le forme importanti di malattia, quindi già sintomatiche, pazienti positivi e sintomatici. La speranza è quella di non arrivare a quegli stadi. Poi però quella è già una garanzia in più, avere un'arma a disposizione come un anticorpo monoclonale che ti possa ridurre l'impatto della clinica e soprattutto il rischio di mortalità è una sicurezza in più, però noi non dobbiamo arrivarci, dobbiamo intervenire prima. C'è un dato che mi ha allarmato la settimana scorsa, cioè sui primi 100.000 pazienti deceduti per Covid, il 16% di questi pazienti era fatto da pazienti oncologici, quindi il 16% è un dato enorme. Sui social questo dato ha permesso ai cosiddetti negazionisti di dare fiata alle trombe, nel senso che hanno cominciato a sottolineare che sono morti perché erano pazienti oncologici, qualunque persona un po' ragionevole la penso in maniera diversa, nel senso che questo 16% ci fa capire invece una cosa molto più complessa, molto più delicata, che il paziente oncologico è un paziente fragile, è un paziente fragile e quindi il virus che attecchisce in un paziente così fragile, con comorbidità, con altri trattamenti in atto eccetera, crea molto più danni e quindi se noi consideriamo questo dato e quindi consideriamo il paziente oncologico come un paziente a rischio, un paziente fragile, questo ci porta alla conseguenza che il paziente oncologico deve essere tra le figure prioritarie da vaccinare.